buongiorno 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 e benvenuti in diretta su fotografia professionale ciao a tutti ciao ragazzi benvenuti benvenuti anche a questo sabato in diretta su fp in diretta per la nostra 59esima diretta incredibile incredibile davvero siamo ancora qua grazie a tutti per la presenza e per l'attenzione sempre fantastica allora allora come state come va questo sabato eccoci qua eccoci qua buongiorno acquistato ieri biglietto per fotografi pro day bravissima valentina ci vediamo il 30 maggio 30 31 la mappa sfumatura la vediamo oggi oggi vediamo anche la mappa sfumatura perché oggi vediamo la correzione dall'inizio alla fine caldissimo anche oggi sto sciogliendo per fortuna lunedì vengono a farmi il cambio delle macchine passiamo al condizionatore quindi lunedì tutti quanti col giubbotto e con la felpa col capuccio chi lavora con me sa che ho una tendenza a tenere le temperature polari in ufficio ma lo faccio perché i processori lavorano meglio con questo caldo c'è il mac che lì che continua a buttare su calore c'è la sta ventola che va a palla e i processori lavorano male ragazzi bravio bravo flavio 60 spritz per tutti grande elvis va bene ragazzi allora grandi prestazioni sul gruppo di ventun pros una foto davvero molto molto difficile non so se vi rendete conto della roba che state facendo a livello di difficoltà abbiamo alzato ulteriormente il tiro perché l'immagine di questa settimana è un'immagine che prevede un montaggio chi ha vinto non questa settimana ma la settimana scorsa ha scelto lo still life beverage e lo still life beverage è una gran roba in questo caso avete da lavorare su un'immagine prodotta dagli allievi della prima masterclass di still life con giorgio carvero è un'immagine molto bella secondo me molto bella da lavorare scattata con una gfx 100 quindi sono dei roda 208 mega una robina divertente con un sacco di dettaglio come già detto chi partecipa alla sfida se vuole evitare di avere problemi di velocità con la macchina può ridurre leggermente i file mi raccomando lavorate su dei tiff ma riducete la dimensione in pixel come si fa ad eliminare le aberrazioni cromatiche allineando i canali rgb allineando i canali rgb non elimini le aberrazioni cromatiche elimini le aberrazioni cromatiche ma ne crei delle altre allineando i canali rgb perché non sono i canali rgb spostati ma ci sono dei piccoli spostamenti in alcune aree di contrasto e per eliminare le aberrazioni cromatiche utilizza i filtri che ti mettono a disposizione i plugin che ti mettono a disposizione lightroom e capture one che sono sicuramente performanti e devo dire che fanno un eccellente lavoro buon pomeriggio luca buon pomeriggio omar buon pomeriggio a tutti grazie tombaso perché hai la capacità di di affrontare tutto con uno spirito fantastico e mi fa morire l'ironia grazie mille secondo me hai fatto un buon lavoro in questo caso c'è stato chi ha fatto un lavoro migliore ma questo non toglie che ragazzi è il livello della del di difficoltà si è alzato tantissimo dal primo lavoro a quello di questa settimana è chiaro che qualcuno faccia magari un pelo più fatica ma devo dire che il risultato generale eccellente la media è altissima siamo tutti stupiti noi per primi noi dello staff per primi del livello medio delle delle correzioni quindi ragazzi tanto 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 lavoro bravi walter non è che non ne stai azzeccando una secondo me stai migliorando tanto in certe cose poi ci sta che magari è una visione leggermente diversa ma il rispetto ad alcune cose che hai fatto in passato stai migliorando sicuramente la correzione era fatta molto bene poi ci sta che a livello di impostazione un certa una certa scelta di toni venga premiata o meno però quello è relativo cromaticamente soprattutto ok quindi continuate così la sfida di questa settimana è tanto tanto difficile però secondo me è una bellissima sfida e il modo migliore per migliorare in assoluto è fare delle cose che prima non sapevi fare c'è un mantra che io porto avanti da sempre che se vuoi fare una cosa falla se vuoi imparare a fare una cosa falla e la cosa fantastica è che non saprai mai fare niente fino a quando non l'hai fatto per la prima volta una volta che sei riuscito a farlo per la prima volta lo sai fare questo è fantastico e quindi sei incapace di farlo anche le altre volte devo dire che tutti i periodi di maggior miglioramento come azienda ma anche a livello personale sono stati quelli nei quali si affrontava qualcosa che non sapevamo fare che non sapevo fare fare qualcosa che non so ancora fare ogni settimana è un modo fantastico per crescere in maniera molto molto veloce è l'impostazione che noi diamo ai nostri workshop e dell'impostazione che diamo a accademia c'è un percorso di fotografia professionale che si chiama accademia di fotografia professionale che parte dalle basi da zero e arriva fino a un livello professionale nel fotoritocco ci sono tanti ragazzi di accademia qui loro sanno che nei contest hanno un filtro ancora più duro rispetto agli altri perché comunque da loro pretendo di più e quindi se c'è un lavoro di un ragazzo d'accademia che è fatto molto bene deve essere fatto benissimo per vincere ok quindi voi sapete che voi avete comunque un giudizio più duro rispetto agli altri e secondo me anche giusto perché avete una formazione di un certo livello e dovete arrivare a un livello più alto io di solito lo dico spesso con le persone alle quali voglio bene e con le quali lavoro alle quali credo molto che gli farò fare una vita di merda perché dalle persone che credo che abbiano possibilità chiedo tantissimo e secondo me è giusto così è giusto che per raggiungere risultati si debba fare tanto lavoro quindi nel percorso d'accademia quello che facciamo è mettervi di fronte a cose che non sapete fare ogni settimana in modo che cresciate tantissimo e otteniate dei risultati di grande qualità c'è qualcuno dei ragazzi di accademia che fa i contest che fa obiettivamente un lavoro ottimo tranquillamente vendibile a livello professionale c'è qualcuno che fa già il professionista c'è qualcuno anche che non fa accademia che fa un ottimo lavoro quindi davvero bravi ok se ci mostresti come corraggeresti le gambe dalla modella la facciamo oggi facciamo quella foto ok mi consigli di disinstallare e installare il programma no 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 photoshop lavora giusto fidati per me non era era difficile per tutti i ragazzi era difficile però se non avete esperienza è un ottimo modo per farsela ciao simo benvenuta simona ritoccatrice professionista ha lavorato con noi ha fatto anche dei corsi qualcuno di voi sicuramente ha visto dei corsi di simona ok benissimo ragazzi allora l'importante non crashare no sicuramente benissimo ragazzi mi fa molto piacere allora vi ricordo una cosa velocissima poi dopo iniziamo a lavorare perché oggi ne abbiamo abbiamo tanto da fare tutto quello che vedete in queste dirette è all'interno dei corsi di post e i corsi di post sono tutti in promo anche per questo periodo moltissime 90 per cento delle tecniche che vedete all'interno di queste dirette sono dentro agli zot che sono le nostre schede per photoshop potete averle sia in pdf che cartaceo chi compra il cartaceo ha il pdf interattivo interattivo in omaggio con le tecniche con tutte le shortcut all'interno qua ci sono tutte le schede le 68 schede degli zot in ogni tecnica ci sono tutti i passaggi con le immagini e chi acquista i pdf ai pdf interattivi con all'interno anche delle lezioni video chi invece acquista il cartaceo ha in regalo anche i pdf e riceve via corriere il nostro super raccoglitore sono disponibili quindi potete acquistarli anche adesso magari la fede vi mette il link poi parliamo di di pro dei dopo ok tecnica bastone la carota ho solo paura la carota dopo le bastonate no 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 tranquillo nessuno abbastanza in realtà no carota e bastone no io sono un bastonatore vasto ho la tendenza questo lo dico sempre all'inizio di tutti i percorsi ma lo dico ve l'ho detto anche per quello che riguarda il gruppo diventa un po io la tendenza a cercare l'area di miglioramento se c'è un lavoro ben fatto te lo dico ma da poi da lì parliamo di area di miglioramento perché farsi complimenti a vicenda a un certo punto è utile fino a un certo punto ogni tanto una pacca sulla spalla serve ma sono più utili i consigli e le migliorie ok bene pro dei preso fantastico gli zotti spediti anche a londra certo avrà un costo diverso la spedizione quindi scrivi a federica in modo che possiate controllare la spedizione come mai ho molta differenza tra rgb adobe srgb per internet perché il gamut la dimensione dello spazio colore di adobe rgb srgb sono completamente diversi vatti a vedere la lezione sui profili colore sugli spazi colore che c'è all'interno delle dirette fantastico bene oggi affrontiamo la correzione dell'immagine di un'immagine fashion dell'immagine che i ragazzi hanno corretto nel gruppo di ventun pro quindi affrontiamo questa io parto in quarta ogni tanto mi fermo per le domande vi prego di fare domande coerenti all'argomento di oggi avete la possibilità cosa hai serena campanini da essere arrabbiata che ci hai pubblicato un grrr ok va bene maurizio benone eccoci qua allora andiamo a parlare di correzione della foto fashion vi ripeto vi chiedo di fare domande coerenti al lavoro che facciamo poi volendo tutte le domande del caso si fanno al mercoledì che sapete che c'è la giornata del domandone va bene allora io adesso mi trasferisco prima su capture poi su photoshop vi faccio vedere rapidamente lo sviluppo che ho fatto in capture perché comunque uno sviluppo abbastanza semplice diciamo così e poi dopo andiamo a lavorare non mi papà quando facciamo collegamento masterclass hai bisogno di collegamento video no ragazzi audio ok serena va bene non è un problema prendiamo anche grrr se erano un like no beh mi ero solo preoccupato che ci fosse qualcosa che non andavo qualcosa da risolvere ok allora ragazzi andiamo a lavorare e andiamo a lavorare sul software così incominciamo cattura dello schermo dispositivo cattura video transizione e capture one allora questa è la mia immagine lo sviluppata o semplicemente lavorato sulla temperatura colore scaldandola un po l'obiettivo è quello principalmente da andare a lavorare vediamo un immagine una nuova variante l'andiamo a ruotare in modo che la vediamo quello che ho fondamentalmente fatto è questo ok quindi sono passato da questa immagine a questa andando a scaldare a tirare fuori gli arancioni i gialli e i rossi in modo che la foto sia più calda e più bella da vedere forse anche troppo calda ma poi eventualmente vado a correggere un attimo il tiro ho leggermente aperto le ombre ma non più di tanto e alcune le andrò a recuperare quelle qua in alto soprattutto del fondo perché voglio che esca bene lei ho recuperato no non l'ho fatto ma lo posso fare recuperate leggermente le alte luci ma appena appena non di più e ho lavorato sull'incarnato per uniformare o anche l'immagine con l'incarnato non uniformato per le labbra ma per ora non la uso e vediamo cosa riesco a fare in photoshop ok ok quindi un pochino di riscaldata a livello di gradi kelvin nelle avanzate ho fatto un lavoro sui gialli andando a togliere un po di verde l'inizio del verde ho lavorato sull'incarnato in modo da avere ancora anche qua una tonalità decisamente più tendente al rosso uniformato tonalità e saturazione posso abbassarle un pelo forse se sono troppo forti e sono pronto per andare a esportare quindi il mio sviluppo che io lo faccia con lightroom con capture one va già in quella direzione ok la direzione del mio sviluppo è già questa c'è già una forte differenza fra una parte e l'altra ok fra l'immagine originale e quella successiva in modo da incominciare già a scaldare tutto bene sono pronto sviluppo 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 un psd in adobe rgb 98 a 8 bit con un con senza compressione con l'apertura in photoshop e nella cartella giusta ok e vado a elaborare benissimo ecco qua la mia immagine hanno controllato una cosa probabilmente ho fatto un errore lo andiamo a vedere ho la nitidezza bassa andiamo a vedere se ne serve un po può darsi andiamo alzarla ma non troppo ok quindi alzo un pelo la nitidezza vado a chiudere questa immagine in photoshop e la riesporto perché mi sono dimenticato della nitidezza non ho problemi di rumore da ridurre va benissimo così ok quindi riesporto poi mi occuperò ad andare a buttare via l'immagine sbagliata come faccio a sapere quando c'è una dominante le dominante si scoprono nei neutri ok allora psd e non tif sì psd perché comunque così so che il file sui livelli non cambia nulla è a livello di compressione esattamente identico allora nella mia torta strati c'è lo sfondo e ci dovrebbe essere la nitidezza la nitidezza c'è già non gliene do ancora ce ne da ce n'è già più che a sufficienza qui non ho bisogno di aumentare ulteriormente la nitidezza mi avvicino leggermente la sintiq in modo da lavorare meglio perché oggi andiamo a lavorare tanto sulla correzione dei dettagli allora una volta che ho la nitidezza a posto incomincio a fare la correzione dei difetti qui non ci sono difetti da correggere che prevedano un anticipo diciamo una pre correzione rispetto alla separazione delle frequenze faccio la separazione perché mi può essere utile per risolvere anche i problemi sul fondo che sono abbastanza particolari e vanno sicuramente gestiti quindi vado a creare un primo livello copiando lo sfondo lo chiamo colore vado a creare un secondo livello e lo chiamo dettaglio che possono essere anche considerate basse frequenze e alte frequenze il livello colore lo vado a convertire in un oggetto avanzato e vado ad applicare intermedio come disturbo queste cose l'abbiamo già viste più di una volta quindi vado ad applicare un disturbo con un intermedio piuttosto alto perché ho questa grana soprattutto delle cosce da togliere e la voglio togliere bene e non dovrei avere grossi problemi di correzione nel resto dell'immagine è bene trovare sempre un equilibrio quindi lo applico due volte perché applicandolo la prima volta vado comunque a ammorbidire gli angoli se lo applico a 28 diciamo quindi il doppio di quello che l'ho applicato ottengo degli angoli iper smussati se invece applico due volte a 14 ottengo degli angoli meno smussati e quindi più utili per il buon risultato della mia immagine il colore lo raddoppio e lo rasterizzo perché su questo dovrò andare a lavorare e lo metto in clipping vado poi a creare il dettaglio immagine applica immagine questa è la classica separazione delle frequenze diciamo 2.0 la prendo da colore copia in sottrai scala 2 sposta 128 e anche il dettaglio viene duplicato il primo in alto in normale quello in clipping l'altro in luce lineare ok quindi la classica separazione che abbiamo fatto mille mille volte ok allora adesso il primo lavoro da fare è quello della gestione del colore prima mi occupo di lei poi mi occupo del fondo perché il fondo è un po' una rottura di scatole e magari lo vado a fare in un altro livello separato ok quindi vado a nascondere il dettaglio questi due questi quattro livelli li metto già in un gruppo che chiamo separazione perché li metto subito nel gruppo perché il gruppo mi è utile per accendere e spegnere tutti i livelli insieme e vedere il primo e dopo della separazione mi è molto utile quindi vado sul colore e incomincio a lavorare sulla pelle e sull'incarnato di lei mi avvicino il primo lavoro da fare è qua sul collo dove lei ha tutte queste striature il collo è abbastanza duro mentre il viso ha delle parti molto lisce quindi qua dovrò stare attenta a non esagerare vado a lavorare su il collo di lei e quindi incomincio a fare il primo lavoro il flusso voi tenetelo molto basso io lo tengo un po' più alto perché ormai ho un discreto controllo la cosa essenziale è non fare questo perché questo fa dei disastri ma fare questo quindi piccoli movimenti quando clicco e sfocature sulle linee in modo da ammorbidire quello che sto facendo è questo non è un lavoro di spostamento delle ombre a meno che non sia assolutamente necessario ma è un lavoro di semplificazione e di ammorbidimento di questi passaggi e di queste sfumature rimane tutto nella stessa posizione a meno che non abbia bisogno di schiarire leggermente qualcosa rimane tutto sempre nella stessa posizione voglio vedere quest'ombra com'è questa la vado leggermente a sfocare perché è un passaggio tonale controllo spesso quello che faccio perché se faccio cazzate torno indietro se schiarisco troppo se faccio degli errori torno indietro voglio mantenere le ombre nella stessa posizione solo quando c'è una necessità specifica vado a spostarle e vado a mixare ammorbidire le ombre facendo due tipi di passaggi le sfumature o così quindi sul bordino proprio per ammorbidire solo leggermente la sfumatura oppure lungo la sfumatura stessa per sfocarla il lavoro col pennello miscela colori è un lavoro piuttosto difficile quindi abituatevi all'idea all'inizio di fare delle macchie per questo motivo io vi consiglio all'inizio di utilizzarlo in maniera molto soft quindi con un flusso molto basso io tengo 25 su tutto il flusso tenetelo sotto a 10 all'inizio poi quando diventerete dei piccoli ninja del pennello miscela colori a quel punto non c'è nessun problema a cambiarlo essenziale non spostare le ombre ammorbidire non spostare non tolgo neanche gli effetti di luce vado a controllare qua se può essere utile fare qualcosa tipo allungare leggermente questo colore rosa nella crescita ma non esagerando ok solo un pochino giusto per avere una parte cromatica anche qua che poi non è detto che sia fantastica detto fra noi ok andiamo leggermente a chiudere e vediamo se sta meglio tanto comunque ci sono i buchi nei capelli che eventualmente poi in un livello di correzione ancora più avanzato si vanno a togliere vado a ammorbidire qua la parte del petto dove lei ha delle onde ok quindi vado a togliere queste onde che ci sono nelle sfumature il seno è a posto e quindi non ho grosse cose da fare quello che ho fatto è questo non è tanta roba è semplicemente un ammorbidimento di certe cose qui sulla mano vado a lavorare sull'ammorbidimento di alcune ombre e di alcune luci in modo da avere delle differenze cromatiche e tonali meno evidenti senza esagerare faccio spesso Z quando mi accorgo di aver fatto degli errori ammorbidisco questi passaggi tonali qua su il dorso della mano ok in modo da avere semplicemente una mano più morbida non devo togliere i dettagli della mano e rendere la piatta però contemporaneamente un pochino più morbida si qui abbiamo i problemi più grossi vediamo se c'è qualcos'altro sulla mano da andare a controllare che posso leggermente ammorbidire queste sfumature la nocca magari è un pelo dura la andiamo leggermente a scurire qui sulle gambe ho da fare uno dei lavori più impegnativi in assoluto perché c'è quest'ombra che è piuttosto brutta fatta in questo modo il ginocchio un po' da ammorbidire e tutta la gamba in generale da uniformare perché ha questa pelle un po' mossa ecco qua è fondamentale andare a lavorare con calma e con attenzione andando anche qui a ammorbidire certi segni certe macchie senza spostare più di tanto le ombre se non quelle che effettivamente voglio spostare questa la voglio leggermente spostare quindi rientro con un po' di luce perché non voglio quella riga netta brutta lì perché non mi piace voglio una gamba più armoniosa diciamo così o alcuni di voi hanno fluidificato il corpo di sta ragazza secondo me non è veramente il caso non ne ha bisogno prima di tutto non è una roba che tendenzialmente si fa fargli diventare i vitini di Vespa ha veramente poco senso fra l'altro sta ragazza non ha il fisico da modella super asciutta e inesistente questa ha delle forme anche molto belle quindi io gliele lascerei proprio non ha bisogno né di crescita del seno né di calare sulle gambe ha una gamba muscolosa ok bella però quindi non andiamo a modificarle queste cose qui è abbastanza importante riuscire a trovare un equilibrio però vedete che a parte questa ombra qua che effettivamente era brutta non è che io ho cambiato la forma della gamba perché non devo farlo è una cosa importantissima nel momento nel quale gestite il colore in separazione non andare a cambiare la forma della gamba vado eventualmente a cambiare delle irregolarità mi può aiutare in questo caso l'inserimento che faccio solo quando mi serve di un livello civetta con le curve di solarizzazione che mi permetta di vedere se ci sono i livelli civetta li trovate in una bellissima scheda degli Zot ok che mi può permettere di vedere se ci sono insieme magari a un livello bianco e nero ok mi permette di vedere se ci sono delle sfumature strane o troppo forti vedete dove ho lavorato come lavora e senza il livello com'era che erano molto più mosse molto più dure qua c'è ancora qualcosa e posso andare a lavorare anche col livello civetta attivato per andare a ammorbidire un po' questi passaggi delle volte sono delle impressioni quindi delle volte non c'è bisogno di farlo bene spengo i livelli civetta e torno all'anteprima meno ombra sulle gambe non le rende visivamente più grosse attenzione io non ho tolto l'ombra e l'ombra è ancora nella stessa posizione ok quello che ho fatto è stato togliere un segno qui che non mi piace poi piuttosto sposto tutte le ombre verso questo lato ok piuttosto aggiungo dell'ombra niente mi vieta una volta che ho fatto questo lavoro di spostare queste ombre verso il centro in modo da aggiungere dell'ombra quello che non mi piace è questo segno che è un segno del muscolo però non è bello da vedere ok ok continuo vado a lavorare sulle ginocchia sulle ginocchia una cosa che ho visto fare che non mi piace è tirare su questa linea assolutamente no piuttosto vado a ammorbidire questi passaggi e a renderli anche leggermente più scuri vado a schiarire leggermente vado a togliere eventualmente un segno qua sulle ginocchia quello che devo fare sul ginocchio è renderlo più armonioso più bellino meno duro ma non andare a togliere tutto quindi vado a fare un lavoro qua di lisciatura di questa zona per avere una zona più a posto qui vado a tirare su un po' di luci in modo da abbassare la presenza di ombra la forma del ginocchio deve rimanere non deve sparire ok quindi quello che sto facendo non è togliere la forma del ginocchio ma ammorbidire certe luci e certe ombre in modo da rendere tutto un pochino più aggraziato e un pochino meno forte ok quindi vado a togliere per esempio se ci sono delle variazioni molto forti qui devo lavorare con pennelli di diversa dimensione per andare a creare un ginocchio semplicemente più gentile non che sparisce ok l'obiettivo non è far sparire il ginocchio ma ammorbidirlo un po' forse l'ho anche ammorbidito troppo poi dopo andremo nei dettagli a sistemarlo ulteriormente magari posso togliere appena appena un po' di questa ombra qua ok però l'obiettivo ripeto non è cambiare e togliere la forma del ginocchio ma quella ma quello di ammorbidirlo semplicemente ok stesso discorso vale da questa parte vado a ammorbidire i passaggi qui c'è un'ombra che non è bellissima e posso ammorbidirla un po' l'essenziale è prima di tutto andare a togliere le macchie e le variazioni che non sono belle in questa zona senza esagerare con l'aggiunta di ombre andando a scusate con l'eliminazione delle ombre andando a schiarire leggermente anche alcune parti do anche un pelo di luce in più a queste gambe che non ce l'avevano senza esagerare anche qua non deve essere eccessivo il lavoro togliere la forma del ginocchio non è una buona idea quindi qui vado a uniformare un pochino i passaggi di ombre di luce in modo da renderli meno mossi e di conseguenza più belli ok devono avere meno movimento di macchie all'interno ma non devono essere eliminati allo stesso modo posso alleggerire leggermente alcune macchie in passato ho anche provato a toglierla questa ma sta malissimo come posso alleggerire leggermente questa parte senza esagerare perché poi diventa troppo troppo sottile e non mi piace quindi la rimetto in buona parte e vado a fare un solo passaggio ok quindi l'ho semplicemente alleggerita un po' quello che devo fare è cercare di eliminare i movimenti all'interno di queste di questi passaggi tonali in modo da renderli semplicemente più fluidi ok quello che succede non è un cambio totale della forma della gamba quello che succede è un ammorbidimento di alcune zone in modo da togliere attenzione però da lasciare la forma normalmente si insegna a tagliare lo scato sopra il ginocchio in questo caso è stato tagliato sotto per vedere la lunghezza dell'abito esattamente volendo si poteva tagliare anche un pelo più in basso ok è uno scatto questo di Marco con le macchine che è un allievo è un fotografo professionista non aveva credo fatto fashion prima di questo di questo workshop secondo me ha fatto un lavoro eccellente perché fra le scelte di queste immagini ce ne sono tante sue è stato veramente molto bravo secondo me ce ne sono alcune che sono molto molto belle ci sono delle foto di Marco ma in generale di questo workshop e in generale devo dire dei workshop fashion di Accademia c'è della roba veramente bella veramente bella ok perfetto fra l'altro li facciamo con delle modelle come questa che non dico vi potete permettere senza problemi però non hanno costi folli per scelta sono modelle che sono o delle new faces o comunque delle modelle accessibili quindi da un certo punto di vista ecco quello che vi chiedo di non fare mai per evitare problemi è sono un po' in ansia con Elena che ci guarda perché il ridocco fashion è parte del suo lavoro anzi il suo lavoro e quindi insomma spero di non far cazzate no a parte gli scherzi però mi fa piacere che sia qui dicevo attenzione a non fare ritocco sul colore con il dettaglio attivo perché potrebbe anche darvi qualche problemi io di solito lo faccio sempre con soltanto il colore attivo ecco qua ho questi passaggi qui che sono queste pieghe che vanno prima di tutto eliminati ok ragazzi guida il vestito quindi l'inquadratura la guida assolutamente il vestito si deve vedere bene il vestito e quindi è fondamentale che si veda tutto il taglio del ginocchio è relativo perché il cliente ha bisogno di vedere la lunghezza ok quindi qua vado a ammorbidire alcuni passaggi per vabbè qua c'è un punto quindi non è un problema voglio ammorbidire i passaggi di questi colori per poi riuscire a togliere più facilmente le pieghe vediamo se c'è qualcos'altro di brutto questa zona qua non è particolarmente bella l'andiamo a ammorbidire un po' a vedere cosa succede quando poi andiamo a fare ritocco qua c'è un'altra piega che se compare anche solo poco nel colore noi andiamo a togliere faccio sempre il passaggio da una all'altra per vedere cosa succede qua il vestito è piuttosto brutto devo dire e quindi probabilmente ci sarà da ricostruire un pezzo di texture andiamo a quantomeno ammorbidire il passaggio sul colore in modo che non ci siano dei difetti ok yep mi fa ok andiamo a vedere se ci sono altri difetti in giro per il vestito che potrebbero provocare dei problemi con delle qua sotto ci sono sicuramente delle cose a cui stare molto attenti andiamo a sistemare giusto i passaggi del colore in modo da avere poi più facilità nella correzione del dettaglio bene altre cose problematiche altre cose problematiche non ne vedo forse qua andiamo a vedere l'interno del vestito si vedrà anche se è una cosa che spesso non è molto amata dai clienti spesso chiedono di toglierla quello che abbiamo fatto a livello di correzione del colore è questo cioè non si deve mai spostare non si devono mai spostare le ombre delle immagini l'unica cosa che abbiamo spostato sono le gambe un pelo forse qua anche troppo però comunque la sensazione che a me dalla gamba è un pelo più armonica poi eventualmente recuperiamo con un po' di dodge and burn un po' di ombra di sotto ok quindi l'obiettivo è renderle meno dure un pochino più flessuose ma lasciare le forme ammorbidire un po' le ginocchia ma senza esagerare qua volendo si potrebbe anche ammorbidire leggermente di più il lato del ginocchio ok però non voglio farvi un un pippone un pippone infinito sulle ginocchia e tutto il resto ok quindi stiamo abbastanza veloci su queste cose tanto avete capito bene o male qual è l'obiettivo e qual è secondo me la strategia di lavoro poi la tecnica la imparate ovviamente la imparate con l'esercizio migliorate con l'esercizio ma la cosa fondamentale è che secondo me riusciate a capire qual è la strategia di lavoro bene questo è il lavoro che ho fatto sulla sul corpo adesso vado a duplicare il livello ok il livello colore copia lo clippo e questo è fondo perché andiamo a lavorare sul fondo sul fondo non voglio stravolgere completamente un pelo di movimento ci può anche stare voglio togliere questa sensazione di macchie e il lavoro sul fondo può essere un lavoro anche molto lungo ok incomincio a lavorarci incomincio a sistemare alcune cose magari alzando leggermente il flusso anche qua fare pennellate lunghe vi può portare a fare dei grossi danni quindi la cosa migliore da fare è lavorare mixando le aree in maniera un pochino più soft ok lasciando anche una qualche minima variazione e andando a lavorare principalmente sulle parti proprio di delle pieghe il problema si potevano ammorbidire le ginocchia indogen burn un pochino sì un pochino lo faremo anche il filo sulla scollatura si toglie dopo sì in ritocco assolutamente e indogen burn possiamo finire il lavoro quindi tutto quello che rimane da correggere io lo posso andare a lavorare dopo indogen burn quello che non devo togliere mentre vado a correggere il fondo sono le cadute di luce per le ombre quelle non le devo levare quindi ci devo stare molto attento e non devo togliere devo cercare è molto difficile non so se ci riesco di mantenere il massimo della naturalezza per quello che riguarda il fondo di carta ok quindi se ci sono dei leggeri movimenti ci può anche stare l'ideale sarebbe che fosse corretto ho visto dei lavori sui vostri fondi eccellenti qualcuno ha fatto un lavoro veramente veramente ben fatto il mio può darsi che risulti un pelo sfocato sì in alcune parti sì però andiamo a sistemarlo un po' potrebbe essere che una soluzione per il fondo alternativa che posso applicare anche dopo perché posso toglierlo questo livello di regolazione sulla separazione una possibilità alternativa sia quella di utilizzare per togliere quelle macchie un po' di dodge and burn e quindi andare a lavorare col dnb per togliere le macchie però diciamo che lavorando sul colore il 90% del lavoro dovrei riuscire a farlo se rimane troppo mosso vuol dire che ho lavorato se rimane scusate troppo mosso troppo sfocato vuol dire che ho lavorato troppo in fretta se è troppo mosso ho lavorato poco se è troppo sfocato vuol dire che ho esagerato che ci sta eh non vi aspettate che al primo colpo io faccia sempre le cose perfette perché non è proprio così ok grazie volendo poi recuperare una texture con crea pattern e rimettercela dopo no non con pattern perché viene molto molto duplicatoso cioè si vedono proprio le duplicazioni dei pezzi in realtà qua la texture è qui eh qua c'è la texture cioè questa grana eh della eh del fondo se ci rimane va bene è uno sfondo di carta è leggermente sfocato eh però qualcosa si vede ok l'essenziale non lavorare sempre dalle luci verso le ombre ma lavorare anche dalle ombre verso le luci in modo da non portare tutto più luminoso ma mantenere le cadute di luce dove ci sono qua per esempio vado a sistemare un pelo sta parte ok sempre mixando le luci e le ombre dell'immagine non ho bisogno di avere un fondo ripeto super completamente piatto l'essenziale che si perda la percezione delle pieghe dovute all'umidità questo è un fondo che è stato conservato eh in un posto troppo umido e ha fatto le pieghe cosa che succede di solito ai fondi di carta se non stiamo attenti ecco in questo caso ci ha creato un grosso problema delle volte si usano queste cose per dare un movimento in questo caso non è stato un vantaggio ecco mettiamolo così perché non era bello da vedere l'abbiamo lavorato per fare queste foto in uno studio di Milano zona magazzini generali zona iedmoda per capirci in quella zona lì bello piccolino e quindi di conseguenza con poco spazio e profondità per riuscire allontanare tanto la modella dal fondo quindi in questo caso abbiamo dovuto un pochino fare di necessità virtù ok io ho dato una appiattita al fondo senza cercando di non esagerare quindi non dare l'idea dello sfocatone per capirci che è una roba un po' così se avessi un po' di bending sullo sfondo miscela colore con separazione di frequenze mi potrebbe aiutare o meglio usare altre tecniche allora arrivo eh sì lo puoi usare per il bending non è detto che te lo risolva al 100% il pennello colore stai sempre campionando il pennello colore il pennello miscela colore campiona da solo per lo sfondo avevo creato una maschera escludendo una modella perché temevo si influenzassero e poi avevo usato il controllo sfocatura il problema del controllo sfocatura è che sfoca tanto cioè ti dà una sensazione di molto sfocato ok mentre il pennello miscela colori per quanto comunque il fondo sia sfocato lo vai a usare dove si serve e basta quindi tu non hai qua e lo vedi con la nostra curva non hai un fondo piatto vedi che il fondo non è piatto ok è tutto mosso e ci sono alcuni punti in cui si vede di più o di meno quindi di fatto nonostante ci siano dei piccoli movimenti ci possano essere delle piccole macchie ti rimane un fondo diciamo abbastanza naturale si poteva sicuramente fare meglio che però non ti toglie quelle macchie brutte che sono macchie delle pieghe del fondale ok bene ho fatto la prima parte del lavoro che è la parte diciamo di sistemazione dei volumi e delle ombre dei movimenti delle ombre con il pennello miscela colore ho usato solo uno strumento adesso vado a lavorare sui difetti magari non facciamo tutti 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 quanti difetti ma vi faccio vedere quelli principali e sui quali andrei a lavorare per esempio lasceremo perdere i capelli vado a lavorare sui difetti più piccoli intanto io di solito faccio una corsetta a guardare lo sfondo e se ci sono delle cose nello sfondo che non mi piacciono le cavo immediatamente quindi delle macchie di polvere delle volte ci sono degli hotpicks per vari motivi delle cose particolari qua non noto nient'altro non è bellissimo questo passaggio qua che però vado a sistemare nel colore non mi piace tantissimo questa zona qui ok vado a ammorbidire un pelo ok e basta farlo nel colore bene adesso incomincio a correggere la parte utilizzare un livello sfumatura in tinta al 100% aiuta a togliere le macchie e te lo sfoca molto te lo sfoca molto cioè riuscire a se tu metti un livello colore lì sopra non togli le macchie o gli cambi colore oppure lo cambi completamente allora lo rifai sintetico ma se riesci quando riuscita a correggere i fondi naturali è meglio ok io qui vado a togliere soltanto i difetti più grossi perché intanto è una figura intera e quindi non si vedranno difetti enormi lo faccio col timbro clone sempre direttamente sul livello della separazione ok vado a togliere soltanto la granulosità e i difetti più grossi perché lei comunque a parte che ha una texture pelle molto bella poi non ha bisogno di grandi cose vado a togliere queste macchie qua vado a sistemare un po' la fronte non c'è bisogno di fargli il peeling sui capelli non c'è bisogno di fare cose tremende perché tanto comunque lei ha un'immagine abbastanza selvaggia abbastanza rock and roll quindi non c'è bisogno poi di fare una correzione così forte bella la correzione dei capelli è bello togliere i capelli impazziti avanti indietro ma non è detto che vi servano sempre anzi rischiate in questo caso secondo me di far più danno che altro io provo adesso a tirare su un pochino di luce qui sotto a questi capelli ma mettermi a correggere tutta la parte dei capelli qua rischia di farla diventare molto molto finta quindi preferisco fare un lavoro accennato sempre andando a fare un passaggio quasi di sfumatura fra la presenza dei difetti e no che abbiamo visto anche in un'altra diretta qua già che ci sono tolgo questi cappellini ma poca roba scendo vado a togliere le macchie che potrei togliere anche in dodge and burn in realtà certe cose vado a togliere i pori più grandi senza togliere la luminosità alla zona del naso perché anzi in questo caso specifico noi abbiamo premiato Osvaldo nella 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 sfida perché secondo me il suo lavoro ha avuto una caratteristica che è quello di dargli quasi dare quasi la sensazione che lei fosse sudata no un bel sudato non un sudato spolto e devastato come si dice a Reggio Emilia ma un bel una bella sensazione di lucido sulla pelle e questo secondo me è stato molto bello questo è stato uno dei motivi per cui ha vinto il contest ovviamente noi delle volte valutiamo più importante una cosa o l'altra questa volta mi hanno deciso di mi prendo totalmente la responsabilità abbiamo deciso di premiare il mood cioè la sensazione che dava l'immagine l'energia che dava l'immagine che era sicuramente bella e positiva ora qua ho delle macchioline non vado a lavorarle troppo perché non voglio ammorbidire troppo ancora la pelle la texture che qua è già praticamente liscia andrò a lavorarle un po' con dodge and burn dopo quindi tolgo solo proprio le cose più grosse lascio il resto perché con dmb poi posso andare a sistemare le cose più importanti sto scendendo sul viso si è bloccato tutto ok vado a fare correzioni in alcuni casi anche un po' più grosse del solito perché c'è una mancanza di texture in alcune zone che mi porta a poter lavorare in maniera più tranquilla non ha una texture così forte si poteva anche creare un nuovo livello per il timbro clone no se stai lavorando sulla separazione lavora qua è meglio per i difetti della texture meglio usare il timbro clone top assolutamente il timbro clone la top è uno strumento che ti costringe a lavorare su un livello pieno il timbro clone ti permette di lavorare anche su livelli vuoti che sono la cosa migliore da fare a parte la separazione che ha bisogno del livello dettaglio quindi io ti consiglio assolutamente di evitare la toppa in generale come strumento di correzione la toppa non è calcolata come strumento di correzione utile praticamente da nessuno almeno a livello professionale io eviterei proprio di usarla è uno strumento abbastanza rudimentale da un certo punto di vista non so se c'è qualcuno che vi insegna a usare la toppa è improbabile se conoscete un ritoccatore che fa fashion o still life eccetera che usa la toppa sarei felicissimo di confrontarmi per capire quali sono i risultati che ottiene perché usandola poco magari è uno strumento utile però onestamente tendenzialmente tutti quanti lavorano e lavoriamo con timbro clone principalmente ma pennelli correttivi e eventualmente pennello correttivo al volo per alcune cose molto piccole quello che sto facendo è questo non sto facendo non sto spostando ombre non sto cambiando la texture sto facendo un tipo di ritocco il più raffinato possibile rimanendo sempre molto vicino guardate la distanza sempre della crocina che è il mio punto di clone rispetto al rispetto al punto nel quale vado effettivamente a correggere ok non sono cambiate le ombre non sono cambiate le luci non è cambiata la posizione di alcune cose della pelle e la pelle è più pulita ma non deve dare la sensazione dello sfocato e del troppo liscio ok nella in separazione delle frequenze come in questo caso lavoro su un livello clippato in questo caso perché mi permette di avere sempre un livello sano con l'immagine originale ma lavoro su un livello trasparente solo su un livello superiore trasparente solo se ho delle necessità particolari qua sto facendo probabilmente un paio di macchioline ma le andrò a togliere in dogen burn tolgo un pochino qua di grana il fatto che lei sia leggermente morbida come fuoco sul viso mi dà una mano decisamente mi permette di lavorare di solito è un grosso problema perché non c'è texture e quando non c'è texture è molto difficile lavorare molto difficile essere preciso ti prego togli quel punto nero ci arrivo arriviamo ragazzi con calma le foto vanno corrette a settori altrimenti vi perdete dei pezzi vi dimenticate delle parti e dopo diventano una schifezza questa è una delle parti probabilmente più difficili da correggere perché la parte dove ci sono i capellini che possiamo lisciare ma anche qua dobbiamo andare a dare una sensazione quasi di sfumatura di passaggio da la parte corretta e la parte no vado a togliere anche il buco dell'orecchino attenzione ok qua posso avere un piccolo problema che devo andare a risolvere bene quindi vado a campionare i punti giusti e vado a ammorbidire un pochino la texture qua andando a togliere alcune cose non tutte ok quindi vado a ammorbidirla un pelo ok ragazzi lavorare con sto caldo è una roba facendo le chiacchiere nel frattempo se avete delle domande dosando l'opacità e con criterio la modifica pelle con prima 100 passaggio poi controllo sfocatura e poi del donjon burn un metodo valido dove c'è la sfocatura il metodo non è valido te la dico molto sinceramente quel bordo più chiaro intorno al labbro o inferiore lo correggi no sull'immagine totale mi dà un contrasto bellissimo quindi no per il momento no poi eventualmente dopo ok le pieghe sul collo ci arriviamo dosando l'opacità no assolutamente niente sfocature ragazzi niente sfocature la durezza del timbro per lavorare sulla texture come adesso è meglio morbido o duro sempre morbido e sempre al 100% se si sbaglia sul livello dettagli in separazione frequenze e ho già fatto troppi passaggi per tornare indietro come si rimedia si mette una maschera si riduplica il livello non toccato che è questo e si va a lavorare solo in quel punto se mi accorgo che ho fatto degli errori ho fatto delle cose qui vado a mixare un po' la texture perché tengo leggermente la texture un po' più mossa perché poi vado a passare a quella dopo quindi sto facendo una sorta di zig zag fra i pixel per essere veloce perché questo non è una correzione high end da beauty questa è una correzione da catalogo me la pagano una cifra normale quindi devo stare all'interno anche di certi tempi quindi vado a lavorare per ammorbidire un po' la texture forse l'ho fatto anche troppo però diciamo che mi interessa fare un passaggio anche qua fra una texture molto morbida e una texture invece più leggera diciamo così che è quella del viso e una texture scusate più dura che invece quella della parte del collo la parte del collo non è detto che io debba togliere tutti i pori vado a lavorare principalmente per togliere le righe se ho fatto bene il lavoro nella correzione del colore questa parte è più semplice quindi vado semplicemente a prendere dei dettagli da sotto e a riportarli qua le pieghe del collo qui ci devono rimanere non possono essere totalmente eliminate mentre può essere eliminata totalmente questa ok la vado a prendere da quella parte quindi vado a tenere una texture il più possibile di qualità esteticamente bella vado a abbassare un po' la texture in questa zona vado a ammorbidire un po' questi passaggi e vado a ammorbidire anche questa perché non mi fa impazzire così com'è quello che ho fatto è fondamentalmente questo ok quindi considerate anche sempre la distanza di visualizzazione altrimenti andremo a correggere poro per poro però diciamo che piano piano riusciamo ad ottenere un risultato di buona qualità vado sempre a prendere la texture leggermente più morbida da un punto per poterla trasferire su un punto dove la texture è più dura in modo da fare non da sfocare i dettagli ma da fare un passaggio il più naturale possibile quello che io devo vedere è comunque un collo naturale se poi hai dei movimenti a delle pieghe che devo andare a correggere le vado a correggere in caso di rughe borse e occhiali le corrego così si potrebbe usare il cerotto al posto del timbro clone sì il timbro clone ti dà una garanzia secondo me di qualità della texture di bellezza della texture che è diversa e quindi io preferisco usare il timbro clone il timbro clone è più difficile quindi diciamo che da un certo punto di vista usare il cerotto ti permette di lavorare in maniera un pelo più semplice e quindi può essere che all'inizio non il cerotto al volo ma il cerotto il timbro ce la posso fare il pennello correttivo ok può essere una buona soluzione ma sempre alt click alt click alt click sempre andando a campionare ok non vado a correggere troppo il collo perché non ho bisogno in realtà di farlo diventare troppo liscio cerco solo di stare attento di non avere delle macchie evidenti quindi anche qua vado leggermente a togliere alcune macchioline alcune cose poi c'è sempre ripeto un eventuale passaggio in dodge and burn per andare a rendere questa parte ancora più precisa quindi qua mi limito a togliere principalmente i difetti della texture mentre in dodge and burn vado a togliere eventualmente le macchie quindi tolgo questo neo semplicemente perché in un punto in cui non si capisce se c'è o non c'è tolgo questa parte andiamo a vedere perché fa questo effetto ok abbiamo un piccolo problema andiamo qua aggiungo un livello trasparente perché non riesco ad ottenere il risultato che voglio quindi aggiungo un livello trasparente e vado a ritoccare con un livello trasparente e risolvo il problema una volta che l'ho fatto torno a livello attuale e vado a lavorare sul livello di sotto ok allora diciamo che qua ci siamo abbastanza poi dopo eventualmente gli diamo una toccatina con dodge and burn vado a correggere un attimo questa parte del vestito giusto per farvela vedere poi scendiamo un pochino sulle gambe magari non le correggiamo tutte e due ma vi faccio vedere quello che io andrei a correggere qui diventa più semplice perché la texture è più semplice da correggere una volta che sotto ho corretto la parte di colore vado a recuperare un po' di texture da questa parte per metterla qua e avere un aspetto più bello di questa zona che obiettivamente era brutta ok quindi vado a usare la texture di un altro punto per andare a correggere queste zone qua questo mi permette di aggiungere texture in una zona dove non ce n'era ok e avere un aspetto più bello del vestito perché comunque è il vestito il protagonista della nostra immagine e io devo dargli la più bella immagine possibile cerco di non sfocare ragazzi se avete domande fatele io altrimenti vado avanti di conserva ok la qualità di questi ritocchi deve sempre tenere conto del fatto che comunque si vedranno abbastanza da lontano e quindi non ho bisogno di una precisione mostruosa quando mi accorro che perdo texture la posso andare a recuperare se faccio troppe macchie dopo un po' annullo e rincomincio da capo vado a togliere i difetti principali questi segni qua che ci possono essere su ogni vestito queste linee qui ecco sono nei vestiti sono le linee nette le cose che si vedono e che sono brutte le cuciture ovviamente no perché fanno parte del vestito fanno parte della confezione magari ci sono delle cuciture fatte in maniera molto particolare il cliente le vuole vedere ok quindi da quel punto di vista non togliete le cuciture a meno che non sia specificamente indicato qui andiamo a togliere questa parte qua di fili Poletti fa lo meglio ok andiamo a togliere questa piega sempre comunque senza fare stravolgimenti assurdi ok come faccio a tenere d'occhio la sfocatura allora la cosa essenziale è che se tu devi correggere un punto con la texture non puoi andare a campionare dove non c'è texture se io devo correggere qua non posso campionare qui dove la texture non c'è se io devo correggere queste zone devo andare a prendere la texture nella stessa zona dove c'è e dove mi garantisce di avere lo stesso dettaglio che c'era se io vado a prendere questa zona dove c'è poca texture la seguo in modo da prendere la stessa identica texture altrimenti si vedono i bolli si vedono le macchie e fanno brutto ok qua potrei eventualmente provare alleggerire un po' ste pieghe però è un lavoro abbastanza difficile vediamo se riusciamo a farlo se non ci riesco torno indietro se faccio delle macchie torno indietro le lascio poi piuttosto se il cliente pretende di averle le correggeremo ok quindi faccio le correzioni base del vestito qua probabilmente c'è una piega che si può togliere in due modi l'ho vista qua questa è brutta non mi piace questa marcatura qua la vado a togliere in due modi uno è sicuramente modificando il colore quindi andando a portare della luce della roba più luminosa qua quindi a non far percepire il passaggio colore e poi andando leggermente a prendere la texture da questa parte sbaglio vado sul livello giusto andando a prendere la texture da questa parte e spostandola ok bene ci sono diversi modi di fare la separazione ce ne sono si sto usando sempre il timbre clone ce ne sono tantissimi di modi per fare la separazione questo è quello che sto usando in questo momento e devo dire mi da grosse soddisfazioni fai tutto su uno stesso livello correzioni volto e vestito intendo si si perché non ho per me questa è una foto da catalogo se fosse una foto particolare qua per esempio non mi piacciono ste cose e allora andiamo a togliere un po' se fosse una foto particolare su un beauty con una collana un vestito nel quale ci può essere da parte del cliente la voglia di vedere delle cose diverse allora sì ma in questo caso io questa la considero una correzione diciamo intermedia nel senso che non è una correzione velocissima una correzione che probabilmente richiederebbe comunque a ritmo di lavoro quindi senza dover spiegare niente concentrandomi solo sui pixel un'oretta e mezzo però non è neanche la correzione che richiede 5-6 ore quindi non sto a fare mille livelli diversi di correzione le mani valgono lo stesso discorso è inutile che vi faccia vedere la correzione di ogni singola pezza del corpo ma sulle mani ci tenevo perché le mani molti di voi le hanno totalmente dimenticate nella esercitazione le mani vanno ammorbidite non vanno modificate anche loro come forma alcune cose tipo delle nocche troppo dure eccetera si possono ammorbidire alcune macchie si possono ammorbidire le vene si possono ammorbidire senza esagerare però l'essenziale è fare in modo soprattutto se la ragazza è magra e quindi ha delle mani spesso hanno delle mani abbastanza dure di renderle un po' meno strega e un pochino più bella ragazza perché magari dal vivo ha delle mani bellissime ma le luci sapete che tirano fuori sempre più durezza di quanta in realtà non ce ne sia quindi io qui vado a fare un lavoro abbastanza soft per andare semplicemente a ammorbidire i contrasti sulle mani se ci sono dei problemi sulle unghie li togliamo qualche piccolo segno ok ctrl z per annullare e ctrl shift z per ritornare avanti anche qua texture delle gambe non tantissima roba ok anche qua macchie da togliere principalmente le macchioline i segni più grossi queste righe che sono righe dovute magari alla mutanda che lei indossava prima o al vestito che ha indossato fino a 5 minuti prima o alla sedia sulla quale è stata seduta ok però la texture si lascia si tolgono i peli questi qua i più matti però se hai dei pelini una leggera peluria non è un problema qua ci sono dei peli che hanno preso il riflesso dalla luce quindi li vado a togliere ma non state anche qua far diventare la texture delle gambe uguale a quella del viso secondo me è una pessima idea è molto bello se riuscite a mantenere le texture diverse poi in questo caso abbiamo una ragazza che ha una pelle delle gambe bellissima senza difetti veramente clamorosa anche a livello di macchie spesso capita che ci sia quell'effetto mortadella sulle gambe e quindi la pelle è molto difficile a correggere questa è fantastica come fare a correggere la diversità di tonalità se stiamo parlando di colore lo facciamo subito dopo una volta fatto la correzione i difetti oggi magari vi tengo qua un pelo di più perché vorrei farvi vedere la correzione fino in fondo almeno corrego una gamba magari non le corrego tutte e due però dicevo dopo facciamo la correzione con dodge and burn delle eventuali macchie abbastanza velocemente e poi dopo facciamo la parte tonale quindi sia sul vestito che sulla pelle con mappa sfumatura così la vediamo e con qua è semplice andare a togliere sto segno perché in separazione lavorando su un livello grigio con solo la nitidezza diventa più easy eccetera eccetera andremo quindi a togliere tutti i pelini fino in fondo diciamo così e a sistemare la texture delle gambe che comunque già di suo non è male una cosa alla quale dovete stare attenti io quello che ho fatto è questo quello che ho fatto è questo si nota poco una cosa che invece andrei a togliere sono questi segni che molti di voi hanno lasciato quindi questi segni qua e questi diciamo pori un pochino più duri che abbiamo tutti in certe zone e quindi bisogna fare un pochino l'estetista qua in questa zona per andare a togliere più che altro i segni lasciando texture quindi non eliminando la texture ma andando a lavorare con attenzione se fosse un'immagine da proiettare da stampare larga 20 metri in piazza del Nuovo Milano questo lavoro lo farei pixel per pixel andando a togliere poro per poro in questo caso visto che ripeto è una foto da catalogo mi basta ammorbidire certe zone farle vedere meno dare meno la sensazione della pelle rugosa o comunque dura che tutti quanti abbiamo sul linguine vado a togliere queste righe queste strisce ma la togliere un pochino di pelini e di pori grossi se ce ne sono ma per il resto lasciamo la texture che c'è è simile a quella che c'è nel corso fashion and portrait retritouch che adesso magari fede per favore posti quindi nel corso fashion and portrait retritouch trovate esattamente questa tipologia di percorso di lavoro sulle immagini fashion ok trovate una tecnica simile questa ve la spiego ai workshop se volete ma cambia poco cambia la tipologia di sfumatura gli strumenti sono praticamente gli stessi qua dovrei andare a correggere quelle parti ma credo che sia più utile andare a vedere dogen burn piuttosto che farvi vedere tutta la correzione di ogni singolo pixel in generale lei è già abbastanza bella così perché ha una bella pelle ok quello che abbiamo fatto dall'inizio con la separazione è questo ok e già abbiamo un'immagine più ordinata vado velocemente a vedere con dogen burn di sistemare alcune cose quindi applico principalmente il bianco e nero per andare a vedere dove sono le macchie e vado qui sopra la separazione a mettere un livello due livelli correttivi curve uno che schiarisce con la maschera completamente nera e uno duplicato che scurisce con la maschera completamente nera perfetto e adesso vado a lavorare molto molto soft si su questo trovate il processo è questo ok poi magari c'è un metodo leggermente diverso ma cambia poco la separazione è separazione allora vado a lavorare a flusso due ok perché ho bisogno di un flusso molto molto basso per non andare a fare macchie chiare ok il pennello bianco ovviamente se devo lavorare su una maschera nera e vado a schiarire leggermente però già due secondo me mi fa fare delle macchie chiare infatti già due è troppo pesante quindi andiamo a un flusso uno e vado solo proprio a correggere i puntini più scuri ok senza fare cose folli ed eventualmente anche i punti più chiari non l'ho girata dicevo eventualmente anche i punti più chiari per renderla più uniforme stesso discorso vale qua prima i punti più scuri però non voglio stare a impazzire non è il tipo diciamo di correzione che si addice a questo tipo di immagine quindi vado a vedere solo se ci sono delle macchie importanti e andiamo solo a togliere quelle qua per esempio non mi piaceva questa cosa qui vado leggermente a sistemare qua ok quando vedo delle macchie più scure le tolgo sto facendo questo non sto facendo delle cose di livello clamoroso sto semplicemente andando a sistemare delle parti delle piccole macchie dell'immagine che la rendono meno fluida meno bella meno ordinata ok quindi cose molto molto semplici e molto soft ok senza andare a esagerare per andare più fino non puoi tenere l'opacità di livello più bassa e lavorare con un flusso un poco più alto no preferisco il flusso bassissimo perché mi permette di aumentare il lavoro che faccio quindi l'opacità bassa in realtà mi fa andare il pennello in un modo che è sempre quello invece io devo avere la possibilità di tenere calcato e agire di più che è quello che mi permette di fare il flusso quindi assolutamente lavoro col flusso perché mi permette un tipo di lavoro diverso e oltretutto rispetto all'opacità mi dà la possibilità di essere più naturale come risultato finale perché è meno geometrico e di conseguenza mi dà un effetto un pelo più naturale qua vado ad andare appena appena una schiarita e basta ok anche in caso di ritrati beauty applica la separazione insieme al doge and burn beauty li correggo di solito proprio fra separazione e doge and burn detto che non sono uno specializzato nel beauty io sono più te lo dico molto onestamente un uomo da un ritoccatore da diciamo così flussi più veloci rispetto al beauty high end che non è il mio la mia specializzazione e da still life quindi moda catalogo quindi flussi più veloci meno meno maniacali anche se mi diverte un sacco fare high end e per quello che riguarda lo still life invece lì si diventa molto molto maniacali però è un altro tipo di lavoro qua ho fatto due errori andiamo a lavorare sul punto giusto sul livello giusto ok questo mi permette di andare a sistemare un pochino quelle aree dell'immagine dove posso avere delle macchie che rendono tutto un pochino più disordinato e meno bello lo stesso discorso vale per esempio per andare a schiarire leggermente alcune parti delle ginocchia se lo voglio fare molto delicatamente anche qua senza andare a esagerare mai con il lavoro che faccio vado a togliere delle piccole macchioline qui quello che sto facendo è questo quindi sempre molto soft eventualmente leggermente lavoro qua leggermente lavoro qua sicuramente non vado a cancellare delle luci e delle ombre che ci sono o comunque non completamente mentre posso recuperare un pelo l'ombra che c'era qua faccio con qualche passaggio e ho già leggermente più in ombra le gambe ok quindi anche il dodge and burn può essere di tipologie differenti il dodge and burn può essere per esempio in questo caso correttivo c'è una cosa che non mi piace qua sullo zigomo ecco occhio qualcuno di voi ha segnato tantissimo lo zigomo lei l'ha già segnato abbastanza lo zigomo non c'è bisogno di esagerare io qua vado piuttosto a schierirlo leggermente per renderlo un pelo meno forte addirittura ok il dodge and burn si usa sulla pelle o anche sul resto anche sul resto io potrei usare dodge and burn per togliere le macchie dallo sfondo per esempio quindi e qualcuno di voi secondo me l'ha anche fatto posso usare dodge and burn per togliere le macchie dal vestito posso usare dodge and burn per fare questo e rendere meno evidenti certi segni neri sul vestito ok quindi certe ombre che sono provocate da alcune pieghe sul vestito se io le vado a ammorbidire le vedrò di meno e quindi ho un effetto più morbido su alcune parti lo vedi soprattutto qua ok quindi il dodge and burn lo puoi usare per qualsiasi cosa il dodge and burn lo puoi usare anche per togliere i difetti perché mi metto lì e con un pennellino vado a eliminare ogni singolo difetto qua per esempio sono rimaste secondo me una macchia leggermente scura qua ok una macchia leggermente scura qui e una macchia leggermente chiara qua ok così vado da lontano vi accorgete anche meglio di tutte le possibili macchie qua per esempio dovrei andare a lavorare per togliere un filo di macchia qua per togliere magari qualche piccolo segno qualche piccolo livido ok quindi qua con dodge and burn io posso andare a togliere delle cose poi ovviamente qui manca ancora la correzione della pelle ma non c'è bisogno di farla secondo me a livelli mostruosi ok eventualmente aggiungo questo dodge and burn correttivo anche se ha già lavorato su alcune sfumature può andare può andare bene usare dodge and burn per correggere la pelle lucida quando eccessiva io direi che è meglio che lavori un po' sul colore cioè se hai la pelle lucida tiri il livello colore in modo da riempirla te lo faccio vedere anche se è una roba che non amo in questo caso assolutamente no secondo me però va a fare questo tipo di lavoro ok per portare la pelle lì qua vedete che ho fatto dei ritocchi sbagliati che poi ci sono andato sopra no è dello gemberon forse quindi faccio questo tipo di lavoro sulla sulla pelle per andare a togliere il lucido quindi di fatto io il lucido lo tolgo in colore facendo questo lei diventa meno lucida ok però non lo fate cioè a meno che proprio non sia una roba necessaria ho fatto usato il pennello bravo ok ho fatto la cazzata ma vabbè comunque insomma il risultato si era visto bene ok adesso andiamo a vedere il prima e dopo velocemente ok bene adesso posso andare a aggiungere un pelo di dmb per i volumi ok in realtà io lo farei a fine perché ci lavoriamo in fondo poi qua volendo potrei fare delle altre correzioni ammorbidire queste pieghe volendo ne avete ne avete all'infinito ok la prima cosa che faccio però è andare a lavorare sui colori adesso quindi mappa sommatura per l'incarnato andiamo a prendere proprio questo lavoro allora poi dopo lavoriamo sul vestito prima di tutto la pelle prima di tutto la pelle vado a campionare una parte luminosa della pelle e vado a campionare una parte molto scura della pelle e questi sono i due primi campioni vado ad aggiungere una mappa sfumatura che viene creata automaticamente con questi colori dopodiché entro ok allora io posso avere anche posso creare una mappa sfumatura anche con i colori campionati e ve lo faccio vedere mi vado a mettere dentro dei campioni e così li facciamo allora nascondo un attimo la mappa sfumatura vado a prendere il colore di lei qui nella parte più luminosa ok e questo lo vado ok aggiunge i campioni bene vado a prendere la parte della del mezzotono qua lo vado a prendere e lo aggiungo ai campioni ok che dovrebbe darmi non solo nelle librerie ma anche nei campioni adesso andiamo a vedere immediatamente campioni non me li ha aggiunti si me li ha messi qua sotto perfetto vado a prendere il colore scuro lo seleziono e lo aggiungo ai campioni benissimo ok adesso attacco la mia mappa sfumatura vado dentro ok e incomincio con il colore più scuro lo vado a prendere qua lo seleziono dai miei campioni quindi scusate un attimo la finestra campioni ok lo vado a prendere qua lo clicco dai miei campioni che ho messo qui ha una luminosità 11 ok e quindi gli vado a dire posizione 11 e gli do la posizione precisa voglio avere la posizione soglia per schiarire o oscurire punti chiari e scuri nella pelle mistero della fede l'ombra scura sullo sfondo in basso si può togliere perché è l'ombra di lei non togliete le ombre dai fondi ragazzi io lo sconsiglio la luce ok questa è la parte luminosa è 91 e io lo vado a mettere in posizione 91 qui ci vado a mettere un altro campione che è bianco ok qui ci vado a mettere se volete un altro campione che parte da qua ma diventa praticamente nero ok quasi in realtà non lo metto mai completamente nero bene poi vado a prendere il mezzotono che è qui lo vado a campionare da qua ok andiamo a vedere il suo mi è sparito l'editor colori ok perché non me lo dai ah qua scusate sono un po' rintornato che è 68 i brightness e lo andiamo a mettere a 68 bene adesso ho la mia mappa sfumatura con le colorazioni che diciamo vengono dalla pelle originale ok la vado a mettere in colore perché non posso mantenerla in normale ma la vado a mettere in colore e la vado ad abbassare perché al 100% ha poco senso ok una volta che l'ho fatta adesso la maschero quindi maschera completamente nera mi basta invertirla e vado a lavorare proprio sull'incarnato di lei per andare a liberare questa mappa sfumatura l'ideale è probabilmente fare la maschera prima sarebbe un'ottima idea secondo me perché così la vedo meglio però diciamo che dovrei riuscire qua attenzione vado a riempire la parte sotto i capelli però poi con una maschera nera la vado anche a mediare con un flusso molto basso la vado a mediare in modo da non avere i capelli colorati ho visto qualcuno di voi che gli ha fatti i capelli marroni non si fanno queste robe ok vado a vedere l'anteprima della maschera volendo da qua bianco flusso al 100% e vado a farmi ho preso il timorclone ma pensate flusso al 100% e vado a farmi la mia maschera ok non c'è bisogno che sia super perfetta mai c'è bisogno che sia super perfetta perché il tipo di correzioni che faremo sarà un tipo di correzione sulla pelle abbastanza soft fra l'altro i toni di questa immagine mi aiutano perché sono tutti abbastanza vicini sia nel vestito che nel fondo sono tutti adiacenti al colore della pelle e io non vado a cambiare questo anche qua qualcuno nelle correzioni è andato a aumentare il contrasto cromatico fra il vestito e lo sfondo ci può anche stare ma o lo cambiate completamente oppure se avete degli adiacenti meno adiacenti il risultato è che sono un po' più brutti quindi quando avete il grosso vantaggio che è stato creato uno scatto scegliendo un fondo esattamente di quel colore per andare a lavorare esattamente su quel vestito per andare a lavorare con quelle luci questo è uno scatto che è stato impostato da un signore che si chiama Fulvio Magliani che è semplicemente uno dei migliori fotografi di moda italiani ed è un fenomeno incredibile secondo me che lavora con una sola luce quasi sempre con una sola luce con solo delle riflessioni questi scatti sono stati fatti se non sbaglio con un flash che sparava la luce su due polistiroli bianchi che erano di fronte a lei quindi è tutto un lavoro di riflessioni non c'è una luce diretta ed è una roba secondo me lui è incredibile poi è una bellissima persona quindi proprio un gran figo ecceci qua allora non conosco Agnesi diceva ho visto un tutorial che usava un livello di regolazione soglia per schiarire o scurire secondo me il tutorial usava il livello di regolazione soglia per individuare il punto più luminoso e il punto più scuro dell'immagine perché soglia in realtà non fa regolazioni quindi soglia ti serve per individuare certi punti dell'immagine poi dopo su quei punti vai a fare delle regolazioni andiamo a vedere la nostra maschera in anteprima in modo da poterla correggere in modo da poter eliminare certi passaggi qua e invece col bianco da aprirne completamente tutti i buchi quindi andare a togliere tutti i possibili buchi che ho fatto nella maschera poi scena bash scusate se ogni tanto uso dialetti che in realtà non domino minimamente quindi posso dire anche delle cagate e ci siamo quasi ok dopodiché posso usare tranquillamente il lazzo sì lo so che anche il secchiello ma il secchiello l'ho tolto anni fa e non lo metterò mai più il secchiello è uno strumento inutile quasi anche la gomma quasi inutile non completamente allora così ho uniformato la pelle attenzione però io non devo avere una pelle totalmente uniforme e piatta e posso anche scegliere di cambiare leggermente i toni di quella pelle ok non è detto che io debba mantenere per forza questi toni della pelle quindi io ho una mappa sfumatura sulla mappa sfumatura maschera già fatta ce l'ho già posso andare a applicare un livello correzione colore selettiva che va a lavorare in clipping quindi solo su quella parte lì e mi va per esempio già nei neutri posso lavorare tranquillamente nei neutri a togliere un po' di ciano a togliere un po' di magenta per avere una pelle più bronzo più più come mi pare ok è chiaro che togliendo il ciano diventa rossa quindi tolgo un pelo di ciano tolgo un pelo di magenta diventa gialla qua io avrò bisogno di dargli un po' di luminosità in più perché questa pelle qua è un po' scurona è un po' piattona ok quindi rimanendo sempre clippato posso andare a lavorare con una curva o con valori tonali per aumentare leggermente la luminanza dei mezzi toni non devo assolutamente andare ad aprire troppo le ombre ok e una cosa che posso fare invece di andare a lavorare in questo modo è lavorare con una curva o con un dodge and burn che vada a tirar su dei volumi allora Gianluca mi dice hai detto non colorate mai i capelli fermo restando che ci sta la mia domanda è per te è un imperativo sì d'assoluto oppure dov'è solamente relativa al tuo lavoro di ritoccatore professionista che in questo caso richiede massima fidelità all'immagine allora non colorate mai i capelli per me vuol dire non andate col colore della pelle dell'incarnato sopra i capelli facendoli diventare di un colore che non è loro partiamo dal concetto che lei comunque ha i capelli con delle sfumature marroni quindi ci sta non ce le ho messe io quelle sfumature lì c'erano già quindi ci sta non è che ci sia bisogno di fare grandissime cose una volta che ho la mappa sfumatura quindi si possono cambiare i colori dei capelli certo evitando secondo me di fare delle cose troppo troppo finte questo metodo di uniformare colore della pelle è molto più migliore del metodo di regolazione tinta unita sì il metodo di regolazione tinta unita è un metodo veloce per fare quel lavoro qua stiamo invece parlando di un metodo che ti permette di avere una qualità ok allora altra cosa che posso fare sempre rimanendo marcato qua è tinta unita bianca la facci lavorare in clipping anche lei ok la metto però se lavoro in clipping così mi dà un effetto che non mi piace quindi la tolgo dal clipping e mi basta copiare la maschera con altremuto vado a copiare la maschera ho il mio bianco lo metto in luce soffusa in luce soffusa dopodiché lo faccio lavorare soltanto su alcune parti dell'immagine giusto per dargli una botta di luce ok la botta di luce che non è detto che debba essere uguale su tutte le parti dell'immagine perché se io mi accorgo che questa lavora troppo forte su questa gamba e sul petto io qua la vado a cancellare quindi la metto in un gruppo ok vado ad aggiungere una maschera e su questa maschera con un pennello con un flusso basso vado a toglierla dove non voglio che lavori troppo quindi magari sul petto la vado a togliere un po' qui in mezzo la lascio leggermente sul seno aumento un po' il flusso ok quindi la faccio lavorare solo dove mi pare a me in particolare sul viso perché ho bisogno e voglio che il viso sia più chiaro non ho bisogno di indurire tanto lo posso fare ma indurire tanto questa parte secondo me è pericoloso da un certo punto di vista quindi vado a ammorbidire leggermente le botte di luce nelle parti dove non le voglio e le lascio invece dove mi interessa quindi posso avere leggermente il seno la mano non mi interessa che si veda più di tanto quindi faccio un passaggio anche un passaggio solo o due questa sicuramente no qua c'è una coscia che rischia di diventare tanto luminosa e tanto piatta questa qui mi piace quindi la vado a regolare leggermente questa qui rischia di diventare tanto forte quindi faccio un po' di passaggi per toglierlo da questa parte e un paio anche qui per ammorbidirla poi decido io quanto illuminare e quanto no ok questo mi permette di avere quel volume su di lei che la fa uscire tanto poi posso abbassare nell'opacità se mi sembra troppo forte ok non so cosa ha detto Marco io sono daltonico eh ragazzi è un po' difficile allora lì fidatevi di qualcuno se siete daltonici diventa molto molto ostica fidatevi di qualcuno fatevi dare una mano per la parte cromatica arriviamo anche alle ombre sullo sfondo arriviamo alle ombre sullo sfondo che andiamo sicuramente ad accentuare ok io quindi ho fatto fino ad ora scusate questi sono pelle ok qui c'è un errore perché questa va qua ok perfettamente bene ora questo è il mio incarnato con tutta la sua gestione adesso vado a fare il vestito ok eh ragazzi purtroppo il problema della daltonia è un bel casino soprattutto quando si tratta di colori molto molto fini perché la differenza di colorazione della pelle è veramente poca poca roba vestito sul vestito ho delle cose importanti da fare quindi devo andare a lavorare vado prima di tutto a fare un livello correzione colore selettiva e come vi ho fatto vedere ieri facciamo un utilizziamo un metodo molto veloce per vedere dove è la maschera quindi inverto maschera completamente nera vado a sbiancarla in realtà questo l'ho già fatto due giorni fa quindi non è molto giusto nei miei confronti farmelo rifare ma lo rifaccio lo stesso quindi faccio il vestito cerco di farlo abbastanza velocemente in modo da non star qua fino alle 6 con voi che lo so che qualcuno di voi è felice ma qualcuno poi ha le mogli che minacciano o i mariti che minacciano morte io sono qua tanto oggi pomeriggio non voglio tenervi oltre siamo già a orari molto molto avanzati però insomma oggi credo che su questa tipologia di immagine ci stesse anche di arrivare leggermente più lunghi ok vado a fare questa parte del vestito fino qua non devo fare delle modifiche mostruose anche sul vestito quindi diciamo che se la mia maschera non è perfetta non è un problema se avessi bisogno di una maschera perfetta tracciato tutta la vita di solito le maschere sui cataloghi moda sono maschere fatte così quindi a pennello cercando di essere precisi ma anche senza impazzire se invece c'è bisogno di una precisione estrema si va col tracciato però il tracciato cioè il tracciato o è preciso o non lo fai quindi per me è una soluzione sempre molto valida e anche piuttosto veloce ma deve darti garanzie di precisione perché se faccio una correzione con un tracciato il tracciato è anche solo leggermente sbagliato si vede tantissimo mentre se faccio una correzione col pennello do per scontato che la mia correzione sarà abbastanza soft sempre il tasto X per passare da bianco a nero e da nero a bianco per fare le mie maschere e correggerle scina bascia anche qua ok un sacco di robe andiamo avanti allora mentre io continuo qua la fede credo che vi abbia postato fashion and portrait e touching ok fantastico quindi avete quel corso a disposizione considerate che tutto il lavoro che io sto facendo lo facciamo in maniera molto più approfondita durante i nostri workshop e lo facciamo in accademia soprattutto quindi se avete voglia di portare queste queste cose di cui stiamo parlando queste queste skill di cui stiamo parlando la capacità di fare ritocco a un livello alto al massimo la fede vi posta se ce l'ha anche la 6 space di accademia così l'andate a vedere perché abbiamo già lanciato la nuova versione di accademia che ha tantissimi contenuti online quindi vi dovete muovere solo per i workshop più importanti quando ovviamente sarà possibile farli ma già in questo momento noi iniziamo molto presto fra l'altro perché iniziamo a maggio anzi all'inizio di giugno scusate con la nuova versione di accademia e abbiamo già 13 in questo momento persone iscritte fra l'altro qualcuno di voi che è qui in diretta numericolose 13 15 quelli che sono ok c'è ancora posto perché c'è ancora posto ma non tantissimo perché non andiamo oltre un certo numero di iscritti per quello che riguarda l'accademia di fotografia professionale ecco lì a ste cose gli diamo un boost decisamente importante qua ho fatto una cazzo ogni tanto faccio le cazzo quindi andiamo a correggere la maschera di traverità che vi divertite un sacco quando io faccio degli errori so che c'è qualcuno di voi che soghigna quando faccio gli errori perché li conosco di persona i soghignatori adesso la vado a correggere so già che siete preoccupati perché avete visto dei difetti è abbastanza strano in realtà parla farmi domande e rispondermi la durezza al 100 e via e via verso nuove meravigliose avventure verso l'infinito e oltre adesso andiamo a controllare sta maschera dove sta il fiocco ho lasciato fuori un fiocco ho lasciato fuori un fiocco d'ore forse era questo il fiocco di cui stavamo parlando in realtà ok allora maschera non perfetta ma più che sufficiente per info su Accademia Fede vi ha già scritto quando lavora un tracciato lavoro fra il 150 e il 200 ecco sulla correzione del vestito io ho uniformato tutto il colore perché pensavo che quel verdolino facesse schifo giustamente come hai detto tu il cliente sarebbe cazzato sono questi i errori di valutazione che mi fanno incazzare allora in questo caso specifico il verdolino fa schifo è vero sono d'accordo assolutamente d'accordo che il verdolino fa schifo ma non lo fai diventa rosa il verdolino lo vai a lavorare e vai a lavorare in modo che su quel colore che probabilmente è nei bianchi mi viene da dire tolgo un po' di cian tolgo un po' di magenta quindi lo faccio diventare più luminoso e più giallo non lo faccio diventare rosa ok quindi io so che quel colore è probabilmente nei bianchi e riesco a andare a togliere un pochino di quell'effetto volendo tolgo anche un po' di giallo se lo voglio più neutro ma senza esagerare per esempio il vincitore del contest se c'è un errore che ha fatto è stato quello di uniformare troppo il colore del vestito al resto nei neri io non vado a inserire del magente del giallo per farli diventare marroni io nei neri tolgo ok scusate senza esagerare tolgo delle cromie anche cian e vado piuttosto ad aggiungere un punto di nero in modo che il mio vestito viene fuori ancora di più senza esagerare ok perché comunque se esagero tolgo i riflessi se io tolgo i riflessi dal nero il vestito non è più lucido attenzione a quello che fate ok quindi io in questo caso sono andato a togliere un po' di verde guardate a togliere un po' di verde lo prendo o no dai neutri ok e a mettere un po' di nero nei neri ok poi posso volendo sui bianchi anche andare a esasperare ancora di più la cosa magari andrò ad aggiungere un livello di luminosità anche qua per quello che riguarda gli altri colori invece nei gialli vado a dare a togliere un po' diciamo in modo da avere un colore un pelo più saturo e eventualmente aggiungere un po' di giallo se non lo voglio troppo rosso perché non è rosso ok questo colore ha una sua valenza quindi in questo livello di regolazione io ho fatto questo che è rendere il vestito più puro più pulito togliendo quei verdi grigiastri dalle parti bianche dell'immagine ma senza cambiargli il colore poi magari un pelo di quel colore c'è e quindi il cliente mi dice no no ma guarda che è di quel colore lì e quindi lo vado a abbassare semplicemente lo vado a modificare un po' yep il corso di fashion and portrait ci trovo anche high end per il beauty ci trovi i livelli di correzione più alti che riesco a fare in accademia facciamo anche qualcosa di più io non sono per niente bravo nella post sono un disastro basta fare un miglioramento piccolo alla settimana cosa ho sbagliato Marco altro errore ok forse era quello di prima allora quindi vestito adesso sul vestito posso anche andare a accendere dell'altra roba quindi vado per esempio a metterci una curva che mi schiarisca leggermente le luci non è scontato che ci voglia che vada a lavorare in clipping e che vada a lavorare solo ed esclusivamente sulle alte luci per aprire un pochino proprio solo quei riflessi per avere quella bottarella di luce in più sul vestito che non è scontata e necessaria è solo per farvi vedere come farlo lavorando con le opzioni di fusione infine Gianni buongiorno benvenuto dal portogallo mi fa molto piacere averla collegata allora siamo qua dicevo adesso vignetatura ultima cosa proprio giusto per chiudere le cose io di solito la vignetatura amo farla con i valori tonali ma la potete fare tranquillamente con le curve ok vignetatura che vado a mettere di solito in moltiplica perché si fonde meglio ma non è scontato e sulla quale vado a fare ovviamente una maschera radiale che poi andremo a sistemare piano piano pezzo per pezzo allora la parte sotto delle gambe la posso anche lasciare così sicuramente lavoro sul viso in modo da aprire tanto questa parte non è detto che vada aperta tutta ok però un pochino sì posso avere un pelo di vignetatura sotto dalla quale escono le gambe che fra l'altro mi nasconde un pochino le ginocchia quello che abbiamo fatto in questa ora e mezza da quando abbiamo iniziato a ritoccare è questo ok quello che mi interessa è che esca lei bella forte figa ok quindi lì potete anche fare come probabilmente ha fatto Osvaldo un altro ad ogen burn per aggiungere una luce ulteriore però diciamo che già così esce abbastanza bene se voi schiarite troppo il fondo lei non esce lei non viene fuori se voi schiarite troppo il fondo perché c'è questa roba marrone che vi occupa un po' tutto quindi vi conviene avere una sorta di vignetatura se la vignetatura va a togliere un pelo d'attenzione ai capelli chi se ne frega sono molto belli ma non sono loro i protagonisti il protagonista è la posa lei il mood e soprattutto il vestito nel momento nel quale io vado a rendere il fondo un pochino più uniforme così non guardo tutte queste pieghe questa roba vado a tirar fuori un pochino i contrasti i colori e la forza del vestito ma non è cambiato completamente sto vestito è sempre lui ok quindi l'obiettivo nel momento nel quale è fatto un'immagine del genere è tirar fuori un mood far vedere la bellezza della modella ok far vedere il vestito nelle sue caratteristiche principali quindi se è lucido deve uscire il lucido ok se è lucido e questo vestito è lucido io aggiungo un livello come quello che ho fatto questo qui perché io voglio che si veda di più il lucido nelle luci ok anche se è basso è sufficiente posso mettere il livello delle vignettature in luminosità per non saturare le ombre sì sì cambia il giusto il moltiplica per me è un po' più forte quindi lo tengo così perché poi lo mixo meglio ma come vuoi ok non è che questo è giusto e quello che avete fatto voi è sbagliato io ho cercato di seguire una linea che è quella che c'è nel brief far uscire il vestito far uscire lei togliere le onde le onde dal fondo per non dare perché è cheap ragà sto fondo fatto così è cheap cioè è basso abbassa il prodotto allora prima e dopo è più basso il prodotto all'inizio o alla fine il prodotto è più figo all'inizio o alla fine del lavoro ok poi c'è troppo rosso qua lo vado a correggere non è un problema ci sono tanti modi per sistemare le cose usi mai la maschera veloce al posto del tracciato no se devo fare faccio tracciati se devo fare faccio tracciati oppure maschere a pennello difficilmente praticamente mai faccio selezioni praticamente mai ok dubbi ansie debolezze appunti errori che ho fatto che ci sta però diciamo che vi avevo detto ci deve volere un'ora e mezza abbiamo iniziato dopo un quarto d'ora che stavamo chiacchierando circa in un'ora e mezza si finisce ok quindi deve essere questo bene o male il timing che avete poi non chiacchierando con voi probabilmente ci vuole anche un po' meno e mi rimane il tempo per fare il secondo giro di correzioni yapala salviamo ok così ci avete le prove e torniamo a me eccoci qua bello accaldato allora come è andata tutto bene la diretta rimane sapete tracciati anche sui paesaggi no dipende considera che come vi dicevo io faccio tendenzialmente correzione commerciale e i paesaggi non sono parte della correzione commerciale quindi no dipende però perché se il paesaggio è urbano ci sono dei palazzi sì assolutamente sì tutto quello che è solido si scontorna molto bene con i tracciati i tracciati possono essere l'inizio per una selezione ottimizzata ok bene ragazzi grazie per l'attenzione vi ricordo che abbiamo tutti i corsi in promo e che Fede vi ha postato anche gli appunti per Accademia il corso di oggi secondo me è Fashion and Portrait Retouch e abbiamo gli Zot disponibili quindi se volete fatevi un giro sull'eShop www.fotografiaprofessionale.it nell'eShop in alta destra c'è un tasto arancione con l'eShop lì dentro trovate tutti i corsi che vi possono interessare se siete interessati ai percorsi fatelo iscrivetevi o sentite da Fede salvato come PSD e basta per il momento sì poi dopo andrò a fare eventualmente l'esecutivo ok altra cosa che vi dico perché state comprando in tanti il biglietto e Fede se vuoi posta il link per il Pro Day il 30 e il 31 maggio abbiamo il Photography Pro Day in diretta online quindi non vi dovete neanche muovere da casa è un evento strafigo con un sacco di gente veramente veramente valida ne parliamo molto bene domani perché domani parliamo di marketing e il Pro Day è dedicato proprio a guadagnare con la fotografia e con il fotoritocco è un evento dedicato tutto a quello ok grande Ratman ok ragazzi ecco anche il link per i Pro Day benissimo ci vediamo domani puntuali qui alle 15 su fotografia professionale per parlare di marketing e del perché qual è il vostro perché così domani vi spiego bene cosa intendo ma quanto lavoro per una foto di catalogo eh ragazzi bisogna vendere dei prodotti e quindi bisogna fare bene le cose ok bene 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 ragazzi a domani alle 15 qui puntuali su fotografia professionale buona giornata e buon sabato sera ciao 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 ciao